Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo breve video parleremo della congiunzione logica operatore booleano AND, che sarebbe la moltiplicazione. Abbiamo due variabili A e B abbiamo 0, 0, 0, 1, sono gli stati che può assumere la variabile, 1, 0, le due variabili e 1 e 1. Adesso scriviamo anche 1 e 1. E la congiunzione logica, quindi l'AND, è vero quando entrambi le variabili sono vere. Ho detto in altro modo, quando entrambi hanno valore 1. Quindi avremo come risultato A e B, A per B 0, 0 per 1 0, 1 per 0 0, e quando sono entrambi 1, 1 e 1, il risultato è 1. Questo è l'operatore AND, o moltiplicazione logica, congiunzione logica.